E' stato condannato a 10 anni di reclusione, l'uomo accusato di avere violentato una giovane e disabile gravissima ricoverata all'Oasi di Troina, poi rimasta incinta a seguito degli abusi. Si è concluso con questo esito al Tribunale di Enna il processo a carico di Alessio Lepiscopo, 41 anni, operatore sanitario nella struttura, arrestato a Troina il 7 ottobre 2020. All'epoca l'episcopo era un assistente socio sanitario in servizio dal 2018 nella struttura di ricovero e cura per i disabili gravissimi. Aveva confessato di aver avuto un rapporto sessuale con la giovane tra la fine di marzo ed i primi di aprile del 2020, mentre la struttura è il lockdown per un grosso focolaio di Covid-19. L'uomo si era offerto volontario per rimanere all'interno della struttura, isolata a causa di un focolaio tra i più grossi dell'intera isola. L'Oasi aveva allestito un reparto per i pazienti positivi dove la giovane era stata ricoverata. La vicenda era emersa solo a settembre dello stesso anno, quando gli operatori avevano scoperto la gravidanza della giovane e informato i familiari che si erano rivolti all'avvocato Eleanna Parasiliti Mollica e avevano immediatamente presentato una denuncia alla squadra mobile di Enna.